Avere il cuore a cuore, ossia una giornata all'insegna delle cardiologie aperte, iniziativa promossa e organizzata dall'Associazione Nazionale con l'obiettivo di mettere l'accento sulla prevenzione delle malattie cardiovascolari attraverso la sensibilizzazione dei cittadini. Si tratta di un'importante quanto interessante occasione di incontro con la popolazione sui temi della prevenzione perché per mantenere un cuore giovane serve anche praticare uno stile di vita sano e una regolare attività fisica. La cardiologia di Vittorio aderisce quindi all'iniziativa col patrocino dell'ASP di Ragusa, del Comune e la collaborazione del personale sanitario infermeristico oltre ai volontari dell'associazione Ollus tra cui l'Avis e dei vari club service. In prima linea dunque i cardiologi del Guzzardi impegnati nell'assistenza cardiovascolare e ritenuti da sempre autentici pionieri in quanto ormai da anni cercano di offrire ad ogni malato cure su misura. Dietro c'è sicuramente una squadra di grande affidabilità che ha affrontato e affronta con grande professionalità tanti casi clinici anche difficili ma sicuramente ricchi di umanità. Il programma prevede per sabato 15 dunque la diffusione di messaggi educativi, proiezioni di filmati sul tema della giornata e anche la possibilità di sottoporsi a visita cardiologica, poi anche eventi collaterali come mostre di pittura e fotografia e una serata artistica teatrale in programma il 28 febbraio presso il teatro comunale.